Sarà questo il campionato degli attaccanti? A quanto sembra, sì, perlomeno guardando le partite del Napoli e poi dell'Inter, perché come abbiamo visto nel pomeriggio, Osimene risultato decisivo per la squadra campione d'Italia e questa sera Lautaro Martinez, seconda doppietta, risultato decisivo per l'Inter. Inter che vince 2-0 contro il Monza, contro un buon Monza tutto sommato, un Inter che ha ormai meccanismi certi, un Inter che ha un sistema di gioco collaudato all'interno del quale inserisce ogni anno dei giocatori che possano risultare utili proprio nel cambio uno su uno, quindi ad esempio esce Gossens e entra Carlos Augusto, extra di giornata. Sulla destra c'è Quadrado che può giocare al posto di Dunfris, a centrocampo c'è una mezzala come Frattesi, c'è Arnautovic, c'è Turam che questa sera ha fatto un lavoro interessante dal punto di vista di aiuto alla squadra, meno per quel che riguarda la parte di finalizzazione. Ed è proprio questa un po' l'incognita dell'Inter, secondo me, cioè la squadra nerazzurra, la squadra di Simone Inzaghi, sarà appesa per tutta la stagione ai gol di Lautaro Martinez, il quale negli ultimi anni ha vissuto alcuni momenti di appannamento e questi momenti di appannamento spesso sono coincisi con alcune fasi della stagione dove l'Inter ha fatto fatica. Lo capiremo ovviamente nelle prossime settimane, capiremo l'impatto di Turam dal punto di vista realizzativo e poi che contributo potrà dare Arnautovic là davanti. L'Inter è apparsa una squadra in versione X per cento e meno, secondo me, nel senso che ci sono stati alcuni momenti dove si vedeva che il ritmo non si voleva alzare, dove ci sono state alcune transizioni non lette benissimo, si sono fatti sorprendere qualche volta su alcuni contropiedi del Monza. La fortuna questa sera è che il Monza davanti è stato abbastanza inoffensivo anche per la mancanza di un terminale incisivo. Un Inter ha un po' un scappamento ridotto, ma comunque in controllo della gara, in controllo anche nel momento in cui il pallone ce l'aveva il Monza perché si sono rinchiusi dietro lasciando anche un maggior possesso palla alla squadra ospite soprattutto nel primo tempo per poi cercare di trovare delle azioni di contrattacco che sono un po' la firma di questa squadra. Vincere partite del genere non dovendo forzare è un buon segnale. Credo che l'Inter debba ovviamente trovare alcuni meccanismi in un sistema di gioco collaudato con i nuovi giocatori. Un Cialanoglu che comunque si è trovato a suo agio nel ruolo di Brozovic, ruolo che tra l'altro aveva già occupato. Forse quasi più in fase di interdizione che in fase di costruzione dove io ho visto invece un Barella già piuttosto pimpante e anche molto dentro il gioco dell'Inter. Non mi è dispiaciuto tutto sommato Dunfris che è entrato nell'azione del primo gol e anche Di Marco sono giocatori insomma che vengono spesso grazie al gioco dell'Inter messi nella condizione di poter aggredire le fasce esterne e lì il Monza è andato un po' in difficoltà. Monza che per contro ha giocato una partita, una buona partita anche dal punto di vista di palleggio un'altra delle squadre che si avvantaggiano della scuola italiana tattica perché non si può negare il fatto che Parladino abbia dato un'identità precisa a questa squadra. Fortunatamente rispetto ad esempio a quello che si era visto nell'amichevole con il Milan non si è cercato in maniera forzata e spesso tragicomica la costruzione dal basso. Qualche volta l'hanno fatto ma più delle volte non si sono viste le uscite pericolosissime che avevamo visto in quella famosa amichevole. Per quel che riguarda i singoli, da segnalare la buona partita di Gagliardini al centrocampo come ex la buona partita anche di D'Ambrosio, anche lui un altro ex in alcuni momenti si è acceso Colpani risultando un giocatore importante per il raccordo tra i due reparti ma non sempre efficace soprattutto negli ultimi 20-25 metri dove il povero Maric ha fatto quello che ha potuto già nell'amichevole con il Milan si era visto insomma che non sembra trattarsi di un grandissimo attaccante tant'è che il Monza è alla ricerca di un centravanti e si sta parlando anche di un prestito per quel che riguarda Colombo. Kiriakopoulos non è Carlos Augusto, l'abbiamo visto questa sera ma nel complesso anche Caprari ha provato insomma a fare qualcosina ma è risultato un po' difficile anche perché l'Inter quando si chiude non è che ti concede tantissimi spazi anche se in realtà poi alcune letture soprattutto sui cambi di gioco che il Monza ha fatto con attacchi da destra a sinistra o viceversa sono stati un po' difficoltosi per quel che riguarda la difesa dell'Inter io credo questo un po' anche legato alla condizione una condizione che non può essere ottimale per nessuna formazione di Serie A però ribadisco quello che dicevo prima nel momento in cui si vincono partite così alla prima giornata dove insomma qualche incognita può esserci credo sia un segnale importante per un Inter che deve soprattutto capire là davanti perché da un punto di vista difensivo sembra questa sera essersi rimessa a posto dopo alcune amichevoli estive dove insomma aveva preso qualche gol di troppo ma la contro prova ci sarà nelle prossime gare perché ripeto il Monza offensivamente questa sera non è stato un granché non ho visto i gol attesi pochi 0.74 su 12 tiri totali contro 2.73 dell'Inter e quindi veramente poca e scarsa la produzione offensiva del Monza però dicevo l'Inter deve capire se là davanti il solo Lautaro è sufficiente che impatto potranno avere i vari Turam e Arnautovic e poi ci sarebbe anche Correa ma di lui insomma sappiamo già e si conclude con tra l'altro una vittoria roboante della Fiorentina che vince 4-1 sul campo del Genoa attenzione perché avvio avvio sontuoso da parte della Fiorentina chiudiamo questa prima giornata di Serie A questa prima giornata di commenti domani ci risentiamo dopo la partita della Roma che gioca in casa con la Serenitana e domani sera dopo la partita della Juventus qui a Udine e vedremo se si confermerà ciò che il campionato ci ha detto oggi cioè il fatto che le squadre di vertice per ora stanno andando nel segno dei loro centravanti cosa secondo me anche normale proprio per un discorso di condizione fisica atletica che non può essere al massimo io vi ringrazio, vi auguro buonanotte vi do appuntamento domani mattina con la Rassegna Stampa Grazie a tutti